Sempre Memosciai, altra palla dentro, la mette fuori Cesar che più che altro la prolunga, dove c'è D'Alessandro che la ripropone al centro, la palla passa, la palla passa per Coda che trova il gol del vantaggio e il primo gol in questo campionato. Il Benevento è avanti ed avanti lo possiamo dire in maniera meritata, 1-0 per la squadra di De Zerbi, questa volta Sorrentino non può davvero nulla, esulta giustamente l'allenatore dei giallorossi, rivediamo il cross di Memosciai, mette fuori in qualche modo Cesar, poi D'Alessandro ripennella al centro con lo stinco quasi, Coda anticipare tutti.